Inaugurazione secondo ponte sul Saline, Assessore Cozzi del Comune di Montesilvano, una grande opera questa? Assolutamente sì, oggi è una bellissima giornata perché finalmente restituiamo ai cittadini un'arteria importantissima. Anzi colgo l'occasione per chiedere scusa ai cittadini che in questi anni hanno sofferto molto e mi riferisco in particolare a quelli che vivono e attraversano quotidianamente l'area Vestina ed in particolare il tratto di via Vestina di Montesilvano che purtroppo questi anni hanno dovuto fare molti sacrifici. Oggi però tutto questo sarà alle spalle fortunatamente e siamo già proiettati verso il terzo ponte che è quello sul mare che mi auguro in primavera prossima potrà essere aperto. Oggi è una grande gioia per la provincia di Pescara ma non solo, per il comparto delle province italiane mi fa piacere avere con me il Presidente nazionale delle province Achille Variati che è anche un ottimo riferimento amministratore eccellente, sindaco già di Vicenza che vuole testimoniare esattamente il risultato conseguito dalla provincia di Pescara in questi anni e in questi ultimi anni in particolare nella difficoltà che le province hanno comunque dovuto affrontare si riesce non solo a inaugurare il primo ponte 30 giorni fa e 29 giorni dopo abbiamo appunto la possibilità di aprire al traffico questo secondo ponte che direi rappresentare esattamente la tenacia, l'energia, la forza, la voglia di consentire ai cittadini di migliorare la loro qualità della vita. Per noi è una sfida vinta, è vero, questo lo abbiamo già detto in conferenza stampa ma oggi vedere tanta gente e tante autorità che hanno condiviso l'invito che abbiamo a loro rivolto significa avere in qualche misura soddisfatto un bisogno collettivo ed è quello per il quale noi ci impegniamo quando ci candidiamo. Quando ci siamo candidati 4 anni fa circa chiaramente non era facile scommettere su questo risultato. Abbiamo sforato il patto di stabilità nel 2015 che ci ha consentito di pagare le imprese ma la cosa più importante è che questo cantiere è partito ufficialmente nel 2016 e quindi una grande soddisfazione per il sistema delle istituzioni. Credo che abbiamo fatto bene a raccogliere la sfida tanti anni fa quando si pensò a quest'opera poi è stata finanziata nel 2006, nel 2008 appunto si sono firmate le convenzioni, nel 2010 è stata appaltata l'opera. Ci sono stati diversi presidenti, come ho già detto, che hanno consentito questo progetto. A me è toccato avviare il cantiere e realizzare le opere. Di questo ne sono fiero, ma non solo per me, ma per tutto il Consiglio provinciale, sia l'attuale che quello precedente ma a nome anche di tutti i sindaci della provincia di Pescara, ne ho avuto diversi qui a presenti oggi che testimoniano esattamente la riuscita piena di questo risultato istituzionale che va al di là della provincia, che abbraccia la sfida affidata a noi dalla regione con il finanziamento Cipe e coinvolge due comuni importanti appunto Montesilvano e Città Sant'Angelo. Quindi siamo veramente felici oggi.